No, rispetto al sistema toscano, diciamo il Movimento 5 Stelle è anche su una posizione di un certo valore che gli viene dato al modello toscano, non al 100%, ci sono alcune cose che andrebbero riviste anche nella Toscana, però diciamo il modello di accoglienza diffuso è un po' il modello che ha suggerito anche il Movimento 5 Stelle di non fare ghetti di non ghettizzare il sistema, di creare quindi delle occasioni vere, autentiche soprattutto di integrazione, cioè della possibilità che queste persone si sentano accolte sul serio e non che siano soltanto di passaggio, questo è un aspetto secondo me che dà valore al tipo di modello toscano. L'emergenza però è caramineo, cioè sono quelle situazioni assolutamente non condivisibili, non è condivisibile che ci si metta due anni per fare l'identificazione perché in questi due anni poi si crea l'occasione anche per il profitto delle solite cooperative, del solito sistema, quindi diventa anche antietico assolutamente, non è più accoglienza ma è semplicemente avidità perché diventa un sistema per fare profitto. Il Movimento 5 Stelle ha proposto l'assunzione immediata di 10.000 giovani preparati che facciano una identificazione rapida tra chi è profugo e quindi ha tutti i diritti del mondo di essere accolto e chi invece non lo è che merita altri tipi di percorso. Quindi da questo punto di vista perché non viene accolta questa nostra proposta? Siamo stati primi a chiedere di rivedere l'accordo di Dublino, a pretendere che tutta Europa accolga i migranti e diciamo in questo senso la coerenza nostra è molto evidente anche rispetto alla Lega stessa perché in Europa la Lega ha votato contro l'accoglimento dei migranti distribuito per nazioni quasi come se strategicamente e demagogicamente gli facesse anche comodo che rimanesse in essere il problema dei migranti così continua a farsi propaganda. Grazie a tutti.